un saluto guardiani bentornati qui su destini oggi video bomba potrebbe proprio risultare un video bomba per quello che è un problema per molti giocatori da quello che vedo e da quello che sento mentre per altri invece non è un problema assolutamente ovvero il fucile dell'ignota come recuperarlo se l'avete smontato avete già tutti e tre i personaggi avete già fatto le missioni di storia di destini 1.0 diciamo e non potete più ottenerlo ora come ora prima di farvi vedere come fare vi faccio un appunto su un paio di cose dette ieri nel video ovvero che completare l'impresa vi darà questo oggetto per lo stregone è un patto degli stregoni ma vi darà la stessa identica cosa quindi un'armatura di classe per il vostro personaggio cacciatore titano stregone che sia che appunto porta difesa 2.20 utile a tirar su un po il livello luce solo che sarà utilizzabile solo dal livello 40 cioè il nuovo level cap quindi per ora rimane lì se volete completare l'impresa saprete che riceverete questa ricompensa qui questa era la prima cosa la seconda cosa le armi dell'armaiolo rimangono e il large day è da mercoledì a mercoledì semplicemente un'attività settimanale ogni mercoledì cambieranno le armi con le quali fare il recuperare reputazione per l'armaiolo che ad ogni livello vi darà la possibilità di ordinare un'arma e di settimana in settimana vi porterà che vi porterà insomma di mercoledì in mercoledì completando appunto le taglie delle sue armi bene queste erano le due cose che volevo chiarire sul video di ieri detto questo eccolo qua il nostro fucile dell'ignota fucile impulsi raro quindi azzurro nell'anno 1 di destiny diventato automaticamente leggendario nell'anno 2 un fantastico fucile impulsi che vi consiglio di recuperare perché potrebbe stando le notizie ricevute fino adesso diventare una una delle nuove armi esotiche chiamata aperte virgolette non c'è tempo per spiegare chiuse virgolette allora quest'arma si poteva ottenere solo completando la missione ultima di storia del giardino nero e veniva consegnato appunto dall'ignota se avete smontato avevate smontato l'arma e avete già tutti e tre i personaggi completati con la missione di storia non non c'era più modo di ottenerla grazie ad un articolo trovato su every eye.it ho scoperto questo sistema c'era questo terminale qua nel salone delle avanguardie che mi era completamente sfuggito si tratta di un terminale di accesso alle imprese abbandonate apriamolo e la guida dice questo che una volta aperto appunto il terminale delle imprese abbandonate sarà necessario andare a recuperare questa missione questa impresa qui la chiamata di un ignota acquistandola ve la troverete qua ovviamente per come funziona adesso il sistema di quest con le varie fasi dell'impresa sarà completabile in 13 fasi così dice il sito e alla fine di queste fasi sarà sufficiente tornare poi dall'oratore e controllare nell'inventario di avere appunto il nostro fucile dell'ignota probabilmente si tratta semplicemente di un ripercorrere le fasi delle missioni della chiamata di un ignota in questo video non vi faccio vedere come si fa perché comunque è lunga io il fucile dell'ignota ce l'ho quindi non lo rifarò vi ricordo che la notizia l'ho appresa da every eye.it quindi insomma non l'ho provata io personalmente su me stesso anche se conosco delle persone che l'hanno fatta e mi hanno detto che funziona in ogni caso tempo per farlo prima del dlc ne avete tenta non nuoce ecco qua questo è il sistema per poter riottenere il fucile dell'ignota ragazzi eccezionale devo dire bene torniamo alla nostra zona dei saluti inoltre vi dico che insomma mancano veramente pochi giorni al dlc e siamo tutti quanti super hypati anche perché bungie con i suoi trailer cinematici ci lascia sempre a bocca aperta bene detto questo come sempre vi auguro buona fortuna nei drop guardiani e ci vediamo al prossimo video ciao